Genera azioni è il titolo del progetto organizzato dall'ASI ente di promozione sportiva e componente del gruppo regionale del piano regionale della prevenzione coordinato a livello locale dal dipartimento di prevenzione AST Pesarurbino per promuovere uno stile di vita sano. Camminare porta tanti benefici tra i quali prevenire tante patologie. L'appuntamento è tutti i martedì a Fano con partenza dalla palestra Nuti per una camminata energica e divertente di circa un'ora aperta alla cittadinanza. L'attività rientra nelle azioni del piano regionale della prevenzione. L'obiettivo è quello di modificare le abitudini sedentarie delle persone attraverso un programma di attività fisica che può essere mantenuto nel tempo anche dopo la fine dell'iniziativa. L'obiettivo di generazioni è promuovere la salute e questo progetto si trova all'interno del piano regionale della prevenzione in un programma che si chiama comunità attive perché proprio vuole stimolare il movimento delle persone ma non solo il movimento fisico anche una certa dinamicità comportamentale e mentale fare in modo che le persone si prendano cura di se stesse. Questo non si può fare chiaramente da soli e la sanità ha cercato e ha trovato dei giusti e ottimi alleati. Quanto è importante camminare e quante malattie previene? Camminare il movimento fa benissimo ormai ci sono tantissime ricerche che ci dicono che previene tantissimi tipi di tumore, le malattie cardiovascolari, va a livellare il livello di colesterolo e di pressione nel sangue e poi aiuta anche in quei dolori osso-articolari che poi sopravvengono con l'età. Però la cosa molto importante che vorrei sottolineare è il beneficio psicologico. Camminare appunto insieme sollecita la serenità aumenta la resilienza che è quella capacità psicologica di saper gestire le situazioni difficili e in un periodo storico come questo ne abbiamo veramente bisogno. Quindi se volete assumere delle pillole di serenità venite a generazione venite a camminare con noi. Questa camminata è organizzata dall'ASI appunto che rappresento, è promotore insieme alla SDGong GIAO che in realtà è la capofila del progetto, ha vinto un bando e grazie a sport e salute quindi possiamo fare una serie di attività gratuitamente. Questa attività è aperta a tutti e questa in modo particolare ovviamente agli adulti. La GONGIAO però presenta una serie di altri corsi, Kung Fu, Combat per bambini, per giovani e adolescenti, poi anche difesa personale per le donne e ginnastica funzionale per gli adulti. Sono tutti gratuiti e quindi ho piacere appunto di promuoverli. Invece questa camminata parte tutti martedì sera, abbiamo cominciato nel mese di marzo e continueremo anche tutto il periodo estivo fino al mese di ottobre. Martedì sera quindi alle 8, partiamo dalla palestra Nuti, facciamo tappa qui all'arco di Augusto 10 minuti alle 8 e 10 circa e poi proseguiamo un percorso per il centro, direzione mare e poi ritorno, un percorso di circa 5 chilometri abbondanti che facciamo in un'oretta. Per iscriversi potete cercarci, quindi cercare Asi Pesaro Urbino nei social, nel sito internet Asi Pesaro Urbino oppure telefonare al numero 328 266 2060.